ti sembra un atteggiamento maturo invadere il feed di muschio ragazzi parliamo va bene allora dirò la mia in maniera molto franca e spontanea muschio selvaggio non è mai stato un granché ok per me per come vivo io i podcast io quando vedo un podcast non voglio saperne meno o non voglio vedere un podcast che mi mostra il talent in un atteggiamento diverso da quello che vedo di solito perché a me non me ne frega un cazzo di vedere a fabio fazio che cringia non me ne frega nulla di vedere un vip a caso che è spaventato da un colpo di pistola di luis come non mi va di vedere di sentire di ascoltare delle risposte no sense a delle domande comiche surreali non me ne frega un cazzo quando io vedo un ospite importante un ospite che ha qualcosa effettivamente da dire o che non sapevo di voler ascoltare di voler scoprire voglio che ci siano delle persone preparate che sanno cosa chiedere all'ospite bene quindi la presenza di luis che sarà tanto bravo a fare le sue cose comiche demenziali surreale e tutto il resto o di rottura come la roba dei croissant eccetera vedere luis in quel contesto non mi ha mai colpito più di tanto perché luis non è un personaggio da da podcast e non so perché abbia voluto necessariamente investire così tante energie e forze in un podcast perché fede d'altro canto ha dovuto imparare tanto e ora ora finalmente ha capito delle cose e ha fatto dei passi indietro luis invece rimasto sempre quello perché funzionava per me non ha mai funzionato frankie però un gusto personale ovviamente io non avevo voglia di vedere un podcast così martin non era male ma perché si preparava e perché gli ospiti che commentava martin a cui faceva delle domande martin probabilmente le aveva portati lui l'aveva invitati lui comunque indipendentemente da questo quindi a me della diatriba luis fedez cioè non me ne frega assolutamente un cazzo da quando è arrivato davide non ho bisogno di leccare il culo a davide non ho bisogno di leccare il culo al cerbero non ho bisogno dello spazio di muschio selvaggio come sapete e non ho nemmeno bisogno di attaccare questo e quello per l'hype perché io ho sempre detto ciò che penso e non credo di essere nella posizione di dovermi boostare grazie di singe grazie a delle semplici opinioni io anche con marra è una merda secondo me mento a mentoni scusa la tua opinione non conta niente essendo tu sempre troppo quindi anche se era un'opinione seria scusa ma non la prendo in considerazione perché trovi sempre però a me non serve anche con marra è una merda perché non si fa discussione è una semplice sparata che non si confà a questa conversazione io ho visto le puntate con marra e sono senz'altro più interessanti marra è preparato si vede che preparato non so perché è venuto il femminile si vede che sta trainando il muschio dove vuole lui giustamente si prepara ho visto miracolosamente fede con dei fogli davanti che sembrava una battuta ma è una cosa importante prima non li aveva e vuol dire che prima non gliene fregava gliene fregava forse un po meno o voleva una roba più spontanea che per me ripeto non funzionava adesso ha dei fogli sembrano tutti più preparati sembrano tutti più in topic e comunque ci sono i momenti scemotti che c'erano prima che possa apprezzare per spezzare qua e là un po quando hanno offerto la canna a fabio fazio detto ciò willy è qua non vi preoccupate ora lo faccio entrare subito volevo chiudere questo discorso e poi passiamo a willy subito quindi sono molto molto contento di vedere questo nuovo muschio selvaggio ed è divertentissimo per esempio che tra conversazione che hanno fatto su sciva con de luca è stato molto interessante quindi sono contento di questa nuova svolta le robe gossipare e narcisistiche non l'ho mai sopportate la cosa di luis sull'instagram di muschio selvaggio è stato un errore perché se comunica se a livello comunicativo luis aveva vinto facendo quel video meme facendo quel facendo quel video divertente alla luis vincendo la battaglia tra loro due ora ha fatto un'altra cosa ha fatto un errore ha fatto un passo indietro ed è passato alla parte del torto perché se c'è una diatriba legale nel mezzo cosa ha fatto ha pubblicato un post di lui su su muschio è andato a vedere non me ne frega un cazzo e ha fatto un passo indietro perché se siete appunto il mezzo nella diatriba legale aspetta ma non prendere il feed di muschio per dire eccomi sono ancora qui siamo in causa ma chi se ne frega c'è non si lui ha detto perché escono i post stanno uscendo gli articoli di giornale usa il tuo profilo e la tua ma non lo so ha memato sì ma non si può sempre passare dalla scusa del meme ragazzi perché non è solo meme ci girano anche tanti soldi di mezzo a questa questione e tanti e tanta popolarità non nascondiamoci dietro un dito quindi ammemato è magari ragazzi va bene per il pubblico un po meno attento ma come la scusa del ammemato non funziona molto è titolare di muschio quanto fedez qui non si sta parlando di tifoserie ragazzi qui si sta parlando di un'altra cosa qui si sta parlando di quello di come vedo io un podcast e di cosa deve rappresentare per me un podcast a me il podcast con luis che faceva le scenette le gheghette o che a volte faceva scena muta non mi piaceva mi piace più così è stato snaturato muschio perfetto inutile piangere nei commenti o andare a fare il tifo per luis nelle sue foto semplicemente una cosa la guardate o non la guardate basta e ma non conveniva interrompere visto che non sono più insieme non sei di parte con fedez io di parte con fedez io ho fatto una puntata di un su podcast perché mi ha invitato non mi ricordo nemmeno quanto tempo fa è una live dove si montava un'armatura di iron man non credo di dover essere di parte con nessuno poi non non so di che cazzo state parlando sinceramente e idem non sono di parte sono forse un po di parte con marra perché è un mio amico ma quando marra ha fatto delle cagate al cerbero l'ho sempre detto quando ha fatto le buone cose al cerbero l'ho sempre detto a me non me ne frega un cazzo di queste cose non sono all'asilo va bene bene benissimo io ho detto la mia ho detto che il nuovo muschio mi piace più del vecchio punto se poi siete d'accordo meno ci mancherebbe altro mi piace mi piace che ci siano più contenuti io cerco il contenuto nelle interviste nei podcast sono le cazzate